Il grano carlantino, una varietà di grano duro coltivata nel paese della Diga di Occhito, è stata ufficialmente inserita nel registro regionale risorse genetiche autoctone della Puglia. La decisione è stata presa dalla Commissione Tecnico-Scientifica. L'inclusione del grano di carlantino nel registro è stata possibile grazie ad un progetto che ha permesso di monitorare i territori e inviare un campione di semi all'IBBR del Consiglio Nazionale delle Ricerche per Analisi Biochimiche. Il progetto ha anche permesso di ricostruire la storia della varietà fornendo alle comunità locali conoscenze scientifiche sulla varietà coltivata da tempo. Il registro regionale risorse genetiche autoctone della Puglia è stato istituito nel 2013 per proteggere e conservare le risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione o di erosione genetica di interesse agrario, forestale e zootecnico. L'inclusione del grano di carlantino è una buona notizia per il paese e cui reddito e occupazione dipendono in gran parte proprio dall'agricoltura.